Un quadro desolante che desta allarme e preoccupazione. Il rapporto Beach-Litter realizzato dai circoli locali di Lega Ambiente segnala una vera e propria invasione di rifiuti sulle spiagge della Campania. 14 litorali monitorati, da Mappatella Beach alla foce del Garegliano, da Licola al fiume Tusciano passando per le aree protette, l'area di Lucrino a Pozzuoli. A farla da padrona soprattutto la plastica ma anche mascherine e rifiuti sanitari, mozziconi e scarti edili. Un vero e proprio firma dell'orrore come denunciato da Lega Ambiente. Materiali che vengono abbandonati impunemente. Considerate che ogni 100 metri di spiaggia lineare abbiamo trovato circa mille rifiuti. Per lo più prevalgono plastiche, microplastiche, ma anche mascherine, guanti, cotton fioc e tantissime tantissime cicche di sigarette. Non è che eliminando le mascherine elimini il problema. Il problema sono i cattivi comportamenti. Per l'associazione ambientalista è tempo di una urgente inversione di tendenza anche in vista dell'avvio della stagione turistica balneare. Veramente una cosa insostenibile considerato che fra qui a qualche giorno le spiagge saranno finalmente invase dai nostri bambini, da persone di tutti i tipi, persone anziane. Insomma dobbiamo provare a farle trovare nel miglior modo possibile e non basta ripulirle, bisogna non sporcarle.